Nel ultimo round del moto mondiale si corre in Malesia al circuito nazionale di Sepang dove un titolo mondiale è stato assegnato, infatti quel fenomeno di Pedro Acosta si aggiudica per la seconda volta in tre anni di carriera in moto mondiale tra moto 3 e moto 2, un titolo del mondo, infatti il rookie maraviglia della moto 3 del 2021 biss a quel titolo e appunto conquista il mondiale della moto 2 2023. In moto GP il mondiale è sempre aperto tra Bagnaia e Martin con il riscatto di Anea Bastellini, in moto 3 invece il titolo del mondo si assegnerà verosimilmente tra Hame Masia e Ayumu Sasaki al termine di una gara veramente interessante e piena di colpi di scena. Ma per una volta partiamo da questo Racing Podcast dalla classe di mezzo perché appunto se c'è un titolo da celebrare è quello del pilota con la carriera numero 37, infatti Pedro Acosta, uno dei talenti più cristallini e importanti di questo moto mondiale, si aggiudica come dicevo in apertura di video il terzo titolo in carriera tra rookie scab moto 3 e moto 2, secondo in tre anni per quanto riguarda il moto mondiale. Dopo quello straordinario del 2021 dominato arriva quello altrettanto dominato del 2023 dopo un anno di apprendistato in classe intermedia. È ancora una volta il trionfo per il team Red Bull KTM che continua a sfornare i campioni del mondo, l'ultimo appunto fu Remy Garner e non solo. Questo però comunque è i crispi di essere uno dei talenti più importanti da qui ai prossimi anni. Acosta infatti l'anno prossimo andrà in MotoGP insieme ad Augusto Fernandez nel team KTM Gas Gas, Polisio Spargarò farà il ruolo di terzo pilota ma appunto le porte della MotoGP sono spalancate da tempo per questo fenomeno che veramente secondo me avrà i crismi di un pilota che andrà a fare la voce grossa in classe regina. Parliamo di un pilota che non ha neanche compiuto vent'anni perché Pedro Acosta è un classe 2004, ha vinto la Rookies Cup nel 2020, ha vinto la Moto3 nel 2021, ha vinto la Moto2 nel 2023. Insomma l'ascesa è di quelli seri, l'ascesa è da fenomeni e appunto già l'anno prossimo si sarà un banco di prove importante. Un mondiale clamorosamente dominato che evidentemente non c'era evidentemente chance per gli avversari per contrastare il 37 di Red Bull KTM Aio che appunto vince il campionato del mondo Moto2 con due gare d'anticipo con un secondo posto comunque di assoluta giustezza calcolando poi che il suo diretto avversario Tony Arbolino è stato anche sfortunato protagonista di una carambola a inizio gara con la caduta di Manuel Gonzales. Arbolino deve rallentare, arriva poi dopo ad altri contatti a centro group deve praticamente abdicare fino alla decima posizione comunque le combinazioni dopo la seconda posizione in Thailandia di Acosta erano nettamente a favore dello spagnolo. Arbolino ha fatto veramente quello che poteva e quindi onora il merito anche allo sconfitto ma c'è da celebrare evidentemente quello che è appunto uno dei più grandi fenomeni del moto mondiale. Non ne vedevo così tanti in realtà come talento dai tempi probabilmente del primo Valentino, dello stesso primo Marquez che fece delle imprese fantasmagoriche. Acosta è famoso in realtà più che altro per vincere dominando le gare e qui veramente dopo un anno di apprendistato ha capito come gestire la moto del team Red Bull KTM Aio e ha portato il team finlandese anche una volta alla vincita del titolo del mondo con evidentemente questo secondo posto in Malesia. Per una gara che appunto ha centrato tutti i crismi appunto su di lui anche se in realtà una gara c'è stata al netto che appunto Acosta non era in questo contesto di Sepang il pilota più veloce. Perché Fermina Aldeguer bissa il successo della Thailandia e conquista la terza vittoria della stagione per il team Bosco Scuro. Aldeguer è un altro pilota che potrà dire la sua ma per la categoria moto 2 evidentemente il pilota spagnolo sta prendendo sempre più mano con questa categoria. Abbiamo già visto dei podi l'anno scorso quest'anno tre vittorie altri due terzi posti con una moto tecnicamente inferiore ma comunque anche Aldeguer è stato previsto di una gara assolutamente dominata un po' alla Pedro Acosta. Aldeguer in questo caso era come in Thailandia l'uomo da battere attenzione al 54 per l'anno prossimo. Per lui suona la marcia reale ma in realtà la marcia reale lino spagnolo suona un po' per tutti e tre i piloti sul podio perché arriva il primo podio della stagione per Marcos Ramirez che è un po' una sorpresa. Marcos Ramirez aveva iniziato la stagione con il team forward che va detto è uno dei bassi fondi della classifica ha cambiato team a metà stagione è passato in American Racing al posto di Sean Di Lanchelli e infatti tutti ci sono visti con un piatto di qualità anche il team americano ha fatto un grande step in avanti. Terza posizione per Marcos Ramirez che con questo probabilmente si accapparrà un contratto per la categoria nella prossima stagione. Il mondiale Moto2 dunque è già chiuso rimangono due mondiali da assegnare la MotoGP e la Moto3. Parlavo all'inizio del video di un riscatto da parte di un pilota MotoGP ebbene il riscatto è arrivato perché finalmente il best di Rimini torna a vincere una gara in moto mondiale dopo le tre dell'anno scorso con il team Gresini. Gresini arriva alla prima vittoria in toccato ufficiale per Enea Bastianini che di fatto si riscatta dal Calvario che lo ha visto protagonista ai lui dalla prima gara della stagione. Ricordiamo Bastianini ha avuto un grandissimo infortunio nella sprint race di Portimao primo appuntamento stagionale da qui non l'abbiamo praticamente mai visto è rientrato in corsa con una condizione tutta da recuperare. Ha fatto vedere buone cose già in gara sprint con una terza posizione o meglio una quarta posizione fondamentale e qui nella gara lunga ha preso soltanto la compagnia avendo ragione di altri compagni di marca perché il podio della MotoGP di Sepang è completato appunto da Alex Marquez e Francesco Bagnana che guadagna punti su Orge Martin a due gare dal termine. Infatti la classifica del Moto Mondiale è recita nel seguente modo Bagnana è sempre prima 412 punti a meno 14 abbiamo Orge Martin e attenzione perché Bastianini potrebbe essere l'arbitro di questo campionato perché se la condizione è questa attenzione perché abbiamo un pilota in più che può competere per le prime 3 4 5 posizioni. Oltre ovviamente il solito Bezzecchi, oltre a ovviamente le KTM nei giusti contesti, oltre ovviamente i piloti che noi conosciamo. Lo stesso Alex Marquez può essere uno spoiler, un arbitro per questo campionato. Per Bastianini è comunque una vittoria importantissima, appunto abbiamo saputo delle sue condizioni precarie, ha saltato le prime di fatto 5 gare, è rientrato, si è rifatto male in Austria, abbiamo rivisto di fatto dal Giappone in avanti. Quindi per un pilota che ha corso praticamente 10 gare è veramente il grande riscatto ed è una vittoria che fa tanto per il morale e ovviamente per ottenere anche delle voci che lo vedono protagonista. Perché visto che Martin sta facendo così bene con un team semi ufficiale qualcuno mormorava evidentemente uno scambio di team tra appunto Bastianini e Martin. Comunque in questa pista Bastianini ha evidentemente dominato, ma sappiamo storicamente come la Ducati a Sepang abbia fatto bene. Peraltro in questa gara 4 donati nelle prime 4 posizioni. Il podio appunto lo completano i seguenti piloti. In seconda posizione Alex Marquez che dunque ha fatto veramente una grandissima weekend di gara sia in sprint sia evidentemente in gara lunga. Ha avuto la meglio comunque di Bagnaia che invece è una mezza delusione però comunque poteva fare qualcosina di più. Vero che i distacchi a Sepang erano molto cristallizzati però un Bagnaia che partiva dalla pole position l'abbiamo sempre visto comunque spesso andare e fare veramente il bello e il cattivo tempo allungando. Qui invece ha fatto molto la gara del Gambro ma la cosa più importante è che abbia guadagnato dei punti su Orge Martin quattro altra guarda. Due gare dal termine anche 14 punti possono essere assolutamente fondamentali per appunto una Ducati che come al solito a Sepang la spiega ne abbiamo 5 nelle prime 6 posizioni. In quarta posizione appunto Orge Martin che lui sì è la delusione del giorno perché era l'uomo più in forma nel di fatto computo delle gare del sud-est asiatico e del continente oceanico. Martin fa una quarta posizione un po' andando a ritroso rispetto alla gara spiega dove era arrivato secondo. Quinta posizione invece una grande sorpresa Fabio Quartarro di fatto conferma la strada da Thailandia mettendo una pezza a questa moto che ovviamente è ancora inferiore rispetto alle altre ma tantissima roba in proporzione alla gara del pilota francese che dunque rimane stabilmente nella top 10 di questo mondiale. In contumacia ovviamente di Jack Miller in sesta posizione Marco Bezzecchi che ovviamente conferma la solidità del team Muni VR46 settima posizione per quanto riguarda la gara della Malesia per l'altra Yamaha Franco Morbidelli ecco se dobbiamo identificare una sorpresa di questa gara positiva è ovviamente la Yamaha una moto cancello che faceva fatica nelle prime competizioni a prendere i punti importanti quindi banalmente la top 10 in questa gara di Sepang evidentemente hanno trovato la quadra. Quindi con un'accelerazione che favoriva ovviamente Ducati regina del motore nella parte guidata Yamaha ha fatto la differenza e si è visto anche con il secondo pilota Yamaha che ricordiamo andrà in Ducati l'anno prossimo team Pramac. Ottavo è Jack Miller che dunque conferma una KTM che comunque in questo contesto poteva fare qualcosina di più perché è vero che c'era Binder che però è caduto ma anche Binder era nelle prime 6 posizioni ed è un po' una delusione questa KTM che si era dimostrata una moto comunque sicuramente più competitiva. In nonna posizione abbiamo Fabio Di Gianantonio uomo mercato di questa MotoGP si parla di un interesse di Honda che però sono dato anche Luca Marini che potrebbe essere più vicino Di Gianantonio qualora non dovesse trovare un posto ovviamente MotoGP dovrebbe andare in Superbike ma ovviamente si aspettano evidentemente le conferme del caso. Decimo è Luca Marini appunto il pilota prestato di qui sopra evidentemente è più vicino a sostituire Mark Marquez in Honda ufficiale e potrebbe essere ovviamente l'ennesimo rilancio comunque per un pilota che si è confermato a buoni livelli quest'anno e potrebbe andare a fare il salto di categoria tra virgolette andando su una moto ufficiale. Certo delle ufficiali insieme alla Yamaha la Honda è quella che fa veramente tanta fatica però sarà evidentemente importante vedere Marini su una moto comunque di una caratura tecnicamente importante. Apro una piccola parentesi in questa gara di Sepang c'erano due wildcard o meglio un pilota sostituto e un pilota wildcard entrambi dalla Superbike Iker Lecuona sostituiva evidentemente Alexis Ancone infortunato e poi c'era la grande novità il ritorno di Alvaro Bautista campione del mondo della Superbike. Ecco diciamo che non sono andati benissimo sia Lecuona che Bautista letteralmente penultimo e ultimo in pista o poco ci manca segno che ancora una volta è inutile paragonare Superbike a MotoGP. Sono due categorie completamente diverse non ha senso fare ovviamente comparative tra una categoria dei prototipi e un'altra la Superbike che è derivata dalla serie ci sta tranquillamente che due piloti comunque importanti soprattutto Bautista campione del mondo in carica quindi non proprio l'ultimo dei fermi. E Lecuona che comunque è un pilota che qualche po' di Superbike l'ha fatto insomma si prendono le piste da piloti che hanno fatto tantissimi test su queste moto tantissimi chilometri e sono evidentemente più abituati. Ricordiamo che di base tra MotoGP e Superbike balla un secondo e mezzo due al giro nel record di ogni pista quindi è abbastanza prevedibile che uno come Bautista abbia fatto una gara in ultima posizione giudili a 50 secondi comunque da Bastianini leader della gara e vincitore. Quindi sono notizie che lasciano evidentemente il tempo che trovano appunto lasciamo fare il mestiere a ogni pilota Superbike corrono in Superbike che sia così MotoGP è giusto che corrono in MotoGP erano gare spot per Bautista un po' una sorta di premio per il mondiale vinto nel 2022 Bautista lo vedremo l'anno prossimo in Superbike Lecuona lo vedremo l'anno prossimo in Superbike non stupiamoci del fatto che abbiano preso la paga dal vincitore di turno. Detto questo il mondiale MotoGP torna a essere equilibrato ricordo ci sono 14 punti di differenza tra Bagnaia e Martina due gare dal termine in ultimo trittico che appunto vedrà protagonisti Qatar e Valencia. E' aperto anche il mondiale Moto3 anche qui con due contendenti dopo la straordinaria gara che ha visto la prima vittoria in carriera di Colin Weijer pilota olandese all'esordio assoluto in Moto3 e dunque suona Held Wilhelmus per il pilota olandese. Sono sbaglio delle prime vittorie del Rio dei Paesi Bassi in questa categoria da quando si chiama Moto3 ma comunque Weijer dimostra di essere un pilota assolutamente in crescita ed è una vittoria importante per il team Husqvarna KTM che comunque è ancora in lotta per il mondiale con il compagno di squadra di Weijer ovvero Ayumu Sasaki secondo al traguardo al termine di una gara che è stata in realtà un'eliminazione per Davide Alonso per Daniel Olgado per Diogo Moreira insomma per tutti i piloti diversi che potevano evidentemente arrivare a contendere il mondiale a Masjah e Sasaki alla fine gli unici rimasti in piedi sono proprio il giapponese e lo spagnolo va appunto a vincere e Colin Weijer che con questa vittoria si sa l'ottavo posto assoluto della classifica del mondiale Moto3 con 130 punti Sasaki è secondo e di fatto guadagna qualche punticino su Masjah che finisce terzo ma lo spagnolo rimane sempre leader del mondiale. Abbiamo di fatto un mondiale conteso tra due grandi veterani di questa categoria perché sia Ayumu Sasaki sia Hakome Masjah sono qui da diversi anni con delle moto comunque competitive Masjah è tornato in onda del team Leopard uno dei più vincenti degli ultimi anni in questa categoria Sasaki invece è con il team intact che da un anno a questa parte ha fatto tornare il marchio Husqvarna il marchio svedese di proprietà della KTM evidentemente in questa categoria non con gran alterna e fortuna nella prima venuta nella seconda venuta invece la casa svedese esce di vincere un mondiale anche qui due gare dal termine i punti di distacco in questo caso sono 13 quindi MotoGP le motore saranno evidentemente ancora una volta da seguire mentre Moto2 è chiusa con la vittoria molto importante e meritata di Pedro Acosta uno dei prossimi fenomeni rampanti di questa MotoGP MotoGP che in generale tornerà appunto in questo trittico perché da qui a fine novembre ci sarà sempre una gara del Moto Mondiale Qatar settimana prossima va iniziato due settimane chi la spunterà tra Maggiaia e Martin in ogni caso una cosa certa Ducati ovviamente potrà festeggiare perché si casca sempre nella casa di Borgo Panigale il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo al prossimo video